Sì ma che stai facendo? Mi sto preparando, devo andare in missione. Ma quali missioni? Missioni giungla, il film dei me contro te. Ma tu dire la nuova missione, virgola, giungla. Io capisco, no? Ma è meglio. Vabbè, cosa dobbiamo fare dei me contro te? Sì, che dobbiamo fare? Il video? Il video di cosa? Di questo. Del pacchetto. Del box? Del box, del box che mi contiene. 20 figurine, 5 bustine. Vai, stai, andiamo ad aprire. Vamo. Siamo ragazzi. Eccoci qua ragazzi. Torniamo con i me contro te. Abbiamo questo box da 5 bustine al prezzo di? 4,99. Quindi c'è un risparmio di un centesimo. Sì. È levato, è levato. 20 figurine e 5 carte. Ok, vai stai. Riesci ad aprirlo? Sì. Da qua. Proviamo il record di incassi al film al cinema. Distruggi. Vai. Invece fa un record di distruggio. Ok. Bene. Siamo qua al box. Ecco qua le nostre bustine. Ricordiamo che all'interno abbiamo 4 figurine più una bellissima card. Verdi come la giungla. Vai. Iniziamo con questa. Iniziamo con quella. Via. Sei messo bene con l'album, stai? Sì. Ah, più o meno. Allora. Faremo poi un video di Cielo Manca. Lui e Sofì. Qua quando li catturano. È bella sta cena quando... Questo è quello dei pesantosi. Sì. Che schiaccia Serenino. Cacane, credo. Voi? Vabbè, lui, Sofì e Chico. Quando vi danno la medaglia. Sì. Questa è la card con la signora che... La signora Marisa. Sì. Lui, la signora Marisa e Sofì. Che è ricordata anche nel primo film. La vendetta del signore S. Numero 8. Sì. Vai. Andiamo con il secondo pacchetto. Di dietro. Sofì, signora Marisa e lui. Secondo pacchetto. Vediamo che la card di Sofì c'era scritto. Ce n'è rimasto uno qua dentro. Ah, sì. Spesso capita che rimangono dentro anche l'altra volta. Anche l'altra volta con... Chi è? Pongo? Sì, Pongo che balla la sua canzone, canta la sua canzone. Poi, vai. Sofì e Chico. Pesantosi. Pesantosi. Perfiglia e metà di Viperiana che vedete qua. Bello. E la card di Sofì. Dolcezza. Quindi questa qua è una card che interagirà nel gioco. Sì. Che abbiamo all'interno dell'album. Che porteremo un video. Sì. A breve. Giochiamo. Andiamo. Inquadre manca a spacchettarle pedina. Sì. Vediamo prima quello. Vai. Che signore l'abbiamo presa in anteprima. Eh. Sempre che ci sono figurine all'interno. Guarda qua. Questo è il terzo pacchetto, giusto? Sì. Sì. Vai. Terzo pacchetto, vai. Chico. E lui e Sofì. Chico. Pongo e Chico. Un'altra volta Chico. Si vogliono bene. Pesantosi. E lui e Sofì. Si vogliono male. Sofì. E Sofì di nuovo. E Sofì. E Sofì. Card. Bene. Quarto pacchetto. Ultimo. E penultimo pacchetto. E penultimo. Voi state facendo questa bellissima collezione, bimbi? Sì. Oddio. Iscrivetevi al canale. Commentate nei commenti se... Che lo fai? Cioè commentate, scrivete nei commenti se... Volete altri video? Eh sì. Olè. Voi sofì e Chico. Sì, è il Chico. Sì, è il Chico. Che ero il tè serpe. Sofì nel backstage. A proposito, ragazzi, dobbiamo salutare... Alessandro. Alessandro. Il nostro fan che ci commenta sotto quasi ogni video. Ciao Alessandro. Un saluto da Liché Giù e dal piccolo Stefano. Ciao Stefano. Vai. È la card di lui. Questo pacchetto è dedicato a te. Undici. Vai. Ultimo pacchetto. E quinto. Olè. Allora, questa è la card. Vai, gira là. Sono dentro la grotta. Nel tempo. Serpe, Sofì e lui. Dentro la grotta. Vai. Ah, qua quando vai? La mola di Chico. Ah, qua lo Chico schiaccia il pulsante dei serpenti. Sì, sì. Sono dentro la scena finale. Signore S. Ma i capelli. Nella signora Marisa. Sì. Che è lì. Il muffin. È la card del signore S. Ok. Bene, quindi questo qua era il box da cinque bustine. Andiamo in saluti ragazzi. Andiamo in saluti. Bene ragazzi. Allora ragazzi. Per questo video è tutto. Del Vai Contro Te abbiamo aperto questo box. Più avanti vi porteremo altri video sui Vai Contro Te. Come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, iscrivetevi sui social, lasciate un like al video e commentare sotto questo video. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.